bella raga siamo qui oggi martedì 21 febbraio 2012 in compagnia dei royal rimes io sono gius io sono max team di blackout radio bocconi www.radiobocconi.it in onda ogni martedì alle 20 e 15 fino alle 22 allora beh siamo qui con royal rimes intanto come state ragazzi tutto bene siamo alla grande siamo qua a torino un treno che finiva così in ritardo siamo usciti ad arrivare comunque delle destinazioni sani e salvi come è nato il vostro progetto guarda il nostro progetto è nato molto spontaneamente in realtà io e lui ci siamo conosciuti tra virgolette per caso eravamo io ero a fare freestyle un suo amico mi ha detto ma io ho un mio amico che ti spacca in freestyle gli ho detto dai fammelo vedere chi è che che poi vediamo come si dice in giro poi l'ho conosciuto non abbia neanche fatto freestyle mi ha subito fatto sentire i suoi pezzi io gli ho detto spacchi facciamo le robe insieme abbiamo iniziato a provare e diciamo abbiamo subito trovato una certa affinità anche nel fare i pezzi e nel lavorare insieme quindi da lì a poco abbiamo iniziato a lavorare al disco che poi è uscito da poco vuoi aggiungere qualcosa dirti niente che è stato come dice lui una cosa molto spontanea nel senso che è stato bello comunque proprio appena conosciuti riuscire a trovare subito una forte alchimia che secondo me la cosa fondamentale nel lavoro fra artisti e il tutto è nato in maniera molto spontanea e rapida soprattutto che una cosa abbastanza difficile in un gruppo appena nato ecco e come mai questo nome d'arte a royal rimes perché perché praticamente giochiamo sul sul gioco della parola diciamo royal rimes in inglese significa rime reali no dare e noi comunque veniamo da ambienti da situazioni abbastanza disagiate comunque vita da periferia economicamente le nostre famiglie non sono molto agiate ben sempre dovuto fare mille lavori comunque per mantenerci una minima e rime reali sia per la regalità sia per la realtà ovvero descriviamo al cento per cento ciò che viviamo nessun fronzolo magari un po di romanzata ma giusto per dar quell'impatto all'ascolto dell'ascoltatore in quel momento ecco descrivete brevemente questo primo lavoro cosa dovrebbe aspettarsi l'ascoltatore prima di mettere in play guarda per il primo lavoro che abbiamo fatto l'ascoltatore deve comunque aspettarsi un lavoro molto spontaneo appunto e molto diretto a noi ne abbiamo scelto comunque nel primo disco di spaziare un po tra tutti gli argomenti di fare comunque dice di avere di avere un panorama ampio cioè non solo fare magari pezzi d'amore o i pezzi troppo incazzati abbiamo detto boh facciamo un po di tutto per comunque perché comunque secondo me bisogna fare tutto nel nella nella musica cioè non puoi solo fare una cosa perché dopo un po la gente si annoia dice ma quello fa solo quella roba lì e basta quindi diciamo che comunque siamo molto punchliner che in gergo vuol dire molte rime ad effetto c'è curiamo molti molto le rime curiamo molti ritornelli abbiamo la particolarità di cantare i ritornelli quasi tutti e comunque riusciamo a restare rial tra virgolette facendo anche magari pezzi meno rap da zoccolo duro tra virgolette hai detto che vi basate molto sulle punchline quanto ha impattato il vostro percorso da freestyle nella formazione artistica si diciamo che appunto io personalmente come anche lui abbiamo iniziato col freestyle che secondo me è una cosa necessaria per chi si vuole avvicinare comunque la musica rap perché il freestyle ti permette di soprattutto di iniziare a mettere in testa le prime idee iniziare a capire come fare le prime rime e poi comunque il freestyle è un confronto diretto subito contro un altro rapper e comunque il rap è molto competitivo quindi sul freestyle praticamente vedi subito chi è il più forte come anche nello sport c'è proprio una roba diretta c'è proprio competizione perché sulla copertina del disco ci siete voi su un tavolo da gioco allora come vuole suggerirsi alla copertina e aggiungerei anche la forma del disco che ha forma di fish sicuramente la musica nasce come passione ma nel momento in cui tu intraprendi un percorso musicale artistico cerchi sempre di arrivare dalla passione alla professione come si suol dire quindi noi scommettiamo tutto su questo su questo disco come una peculiarità potete vedere che le carte sono uguali quindi o perdiamo insieme o vinciamo tutto insieme è un all in vediamo cosa succede e puntiamo tutto su questo disco insomma mi viene allora da farvi una domanda come vedete adesso la situazione dell'hip hop in Italia insomma il gioco ormai è iniziato ormai tutti fanno rap comunque tantissimi ragazzi di oggi fanno rap e ci sono prodotti di diverse qualità come vedete allora questa competizione insomma voi siete nell'underground quindi come vedete adesso il momento quali sono secondo voi i più temuti e quelli che magari sforneranno qualche produttivo insomma chi tenete d'occhio nel gioco dai ma guarda in realtà non è che teniamo d'occhio anche perché noi siamo proprio nuovi cioè siamo appena arrivati ma in Italia adesso il rap sta proprio spopolando cioè il genere c'è più in voga del momento tra virgolette e di conseguenza ci sono prodotti molto scadenti perché comunque YouTube permette a chiunque di mettere i propri lavori online e quindi permette a molta gente di vedere le loro cose e questa è una roba positiva ma anche negativa perché magari una volta se spaccavi vuol dire che la gente magari passava il tuo cd a un altro ed era una roba molto più di nicchia adesso magari un ragazzino di 15 anni che non sa neanche cos'è il rap va a mettere un video c'è il tipo magari col capello alzato che fa tutto il figo però poi non sa rappare però dicono io voglio essere come lui per com'è non per come rappa questo è l'unico punto un pochino a sfavore di YouTube per quanto riguarda gli artisti che teniamo d'occhio non è che teniamo d'occhio gli artisti però sicuramente c'è gente che spacca ti dico noi comunque siamo molto fan tra virgolette di Amy Schilla che è anche un nostro caro amico in questo periodo è uscito Salmo che spacca tutto bravissimo poi c'è Enzi che è il nostro concittadino che anche lui si sta facendo stravalere che ora uscirà probabilmente con un lavoro suo che lui è veramente il capo veramente e boh per il resto non non ci sporgiamo non diciamo altri nomi basta se no poi si creano i disting mi fanno un disting poi devo rispondergli lasciamo perdere tra l'altro non è il caso fate la vostra musica insomma cercate di farla al meglio questo è l'importante tra l'altro nel vostro disco ci sono già collaborazioni importanti appunto Amy Schilla 5 Pechegno c'è Zuli che effetto vi ha fatto collaborare subito al primo lavoro con degli artisti così importanti allora innanzitutto è stato un onore cioè nel senso nel momento in cui arriva il rapper che hai sempre ascoltato perdi un attimo quella pilda sto facendo rap e ritorni un po' l'ascoltatore quindi comunque noi che siamo cresciuti ma la nostra generazione ha avuto i Club Dogo prevalentemente poi Marrakesh però quando comunque arriva Quei Pechegno che ti dice ai ragazzi complimenti adesso facciamo la roba facciamo il pezzo buttiamo giù delle idee è un onore insomma come lo è stato anche per quando è arrivato Amy Schilla anche se comunque siamo amici e c'è stato comunque un altro tipo di rapporto molto più amichevole che professionale lui è anche venuto giù a Torino abbiamo passato delle giornate insieme fino a trovare magari l'idea giusta per il pezzo per renderlo al meglio insomma Zuli è un nostro concittadino quindi insomma abbiamo cercato di portare il suono di Torino al massimo livello possibile degli altri featuring tutti importantissimi da Kevin Astle della Voodoo Smokers Familia componente anche vacca insomma citerei Cicco Sanchez che è un nostro fratello noi stiamo cercando di creare una realtà un po' più larga siamo partiti dai Royal Rhymes adesso abbiamo creato la Royal Family che vorrebbe far collaborare fra di loro più rapper possibili dell'underground torinese per riuscire ad avere ancora più potenza sì, diciamo non tutti i rapper torinesi perché quelli scarsi non rappano con noi però c'è gente a Torino c'è gente molto brava tipo Pablo Frida che è un mio carissimo amico oltre che un ottimo rapper che comunque è uscito da poco con la roba e sta spaccando parlando invece di proprio dei contenuti del disco non cambia mai un pezzo abbastanza critico e disilluso nei confronti del quadro socio-economico italiano questo pezzo l'avete scritto prima o dopo della caduta del governo Berlusconi e nel caso in cui lo abbiate scritto prima il cambiamento che è avvenuto alla guida del paese secondo voi può essere un primo passo per un cambiamento futuro o no? non fatevi influenzare che siamo la radio Bocconi no, no, no allora io ti dico subito il pezzo era stato scritto prima della caduta del governo tant'è che io ho chiamato Fred e ho detto ma non è che lo devo riscrivere perché soprattutto la mia strofa inizia con Silvio ma che fa i rubi quindi era molto diretta però in realtà voleva analizzare un panorama un po' più ampio no, quelli che hanno sempre visto il Berlusconi come il male di tutti o il male di tutti l'Italia insomma secondo me è il berlusconismo il problema cioè la coscienza dell'italiano secondo me all'interno ha questo essere furbetto questa cercare la scorciatoia ed è questo il male del paese di politica ci siamo sentiti anche dire ma ragazzi avete 20 anni e parlate di politica certo io sono il futuro del mio paese nel momento in cui io sento parlare di giovani di generazioni future di possibilità di speranza solo nelle campagne elettorali e quello è un problema nel momento in cui i governi sono stabili non si riesce ad avere delle proposte concrete vogliono parlare di città europee le metro a Torino chiudono a luna abbassano i decibel per decreto del sindaco mi hanno detto che a Milano la situazione è stata più o meno analoga quindi insomma direi che la situazione è più o meno questa e siete soddisfatti dei riscontri che sta avendo il vostro disco disco tra l'altro è uscito non in free download come spesso accade per molti primi lavori di artisti emergenti o quantomeno alle prime esperienze ufficiali secondo voi se il disco fosse stato in free download sarebbe girato di più tra gli ascoltatori nella scena rap? posso dirti guarda io sono un sostenitore tra virgolette anche del free download però secondo me c'è un lavoro deve essere comunque messo in vendita perché comunque quando uno fa un disco in free download tendenzialmente sono dischi fatti magari in uno o due mesi con basi americane o comunque senza grosse produzioni dietro noi comunque abbiamo avuto uno staff che ci ha seguiti abbiamo passato ore in studio provare e riprovare le cose per farle suonare sempre al meglio quindi boh io non mi sarei mai sentito di farlo uscire in free download anche perché secondo me avrebbe anche per suo valore perché comunque una cosa che è gratis una cosa gratis viene sempre vista soprattutto dagli artisti nuovi viene vista magari sì che questi ragazzini qua hanno fatto un disco a caso mentre invece noi vogliamo dare subito una nostra impronta e dire noi siamo qua perché ci siamo tra virgolette spaccati il culo cioè si può dire però c'è questo bene e il pezzo anzi il disco si chiude col pezzo che ne sarà di noi che ne sarà di voi come vi vedete da qui a cinque anni è uno spazio bello ampio dunque che ne sarà di noi nel senso che comunque è un pezzo in generale non parla tanto della vita artistica quanto della vita vissuta ad esempio cioè per citare la mia strofa magari nella mia strofa il pezzo è dedicato a una persona con cui sto parlando e gli dico guarda è inutile cambiare c'è anche un po' di come si dice amarezza nelle parole guardando al futuro parlando di una vita artistica si spera che da quei cinque anni la musica sia diventata una fonte di sostegno innanzitutto perché comunque per dei ragazzi comunque con situazioni abbastanza un po' disagiate in termini economici diventa anche una fatica fare musica nel senso stacchi da lavoro a mezzanotte però sei in studio per registrare la mattina ti alzi alle otto per farti capire quindi speriamo appunto che la musica diventi la principale fonte di sostegno cerchiamo comunque di allargare al massimo lo spettro degli ascoltatori che potrebbero seguirci guarda dico anch'io cosa in realtà io sono un pochino più cazzonaro di lui però comunque io tra cinque anni spero di concludere qualcosa perché comunque io faccio musica perché mi piace e perché comunque spero di farla tutta la vita e che ne sarà di noi appunto io nella mia strofa comunque sono un po' pessimista perché secondo me meglio non esagerare bisogna stare coi piedi per terra e vediamo cosa succederà più avanti va bene invece Pia abbiamo parlato di cinque anni quindi periodo molto lungo più del breve avete già qualche progetto di cui volete parlare? guarda in realtà siamo un po' indecisi sul da fare stiamo pensando di fare sicuramente un progetto gratis questo sì però per ora non abbiamo niente di più dettagliato in più vabbè cose imminenti io parteciperò a Spit il programma di Marrakesh di SMTV e quindi ho sono preso bene speriamo di spaccare speriamo bocca al lupo allora una domanda ancora visto che hai nominato Spit cosa pensate voi che venite che avete iniziato a fare musica e vi siete approcciati al rap di una cosa così come Spit che in Italia non c'era mai stata perché ci sono state delle piccole cose a tratti però non c'è mai stata una cosa seria così costruita siete contenti? cosa ne pensate? pensate che faccia bene? sì in realtà guarda ti dico io sono stracontento di questo programma che stanno facendo perché permette comunque agli emergenti come me come altri che ci saranno poi nel programma di farsi notare sono un po' in paranoia per le parolacce perché comunque a Torino il freestyle si fa incazzato cioè io non è che se devo dire cazzo lo dico cioè capito quello è un pochino la cosa che mi manda un pochino in paranoia però per il resto sono stracontento veramente figo beh al massimo la tagliamo qua perché non so se puoi dirlo ma ma qui di aspetto non potete dire parolacce nel regolamento? no vabbè in realtà non è che non si possono dire parolacce però la ragazza che lavora mi ha detto mi raccomando non fare come la punata pilota perché io comunque ero andato là con l'idea di fare freestyle da strada come abbiamo sempre fatto c'era e quindi ho un pochino esagerato chiaramente però vabbè loro mi hanno detto semplicemente di essere contenuti anche perché c'è la fascia dei minori che è importante non non esagerare allora spit non è ancora iniziato tuteliamo i bambini italiani insomma esatto non è ancora iniziato comunque spit siamo ancora agli inizi una previsione secondo te c'è il rischio che snaturi quella che è l'essenza del freestyle attraverso delle limitazioni comunque hai detto non può essere il rap incazzato come come è realmente delle battle questo cosa comporterà secondo te ma allora in realtà non è che non c'è il confronto incazzato perché in speed gala già solo se vedi c'è una competizione allucinante sono tutti carichissimi però diciamo che non sarà una battle da da centro sociale tra virgolette più una battle contenuta non esagerate però sicuramente lo scontro diretto ci sarà e poi comunque non è che possiamo non dire niente ci sarà saremo solo un pochino meno spinti tra virgolette un'ultima domanda e poi penso che ci saluteremo visto che siete di Torino Juventini o Granata? guarda io ti dico sono abbastanza a calcistico a me non è non mi è mai piaciuto tantissimo il calcio ho sempre seguito altre robe non lo so la gente che si va a picchiare allo stadio per una squadra di calcio non me ne ha mai fregato niente però se devo scegliere è Juventino io non scelgo nel senso mio padre Granate penso mi ucciderà per questa cosa però sono molto più cestistico cioè io ho anche giocato a basket anche a livelli abbastanza alti serie C poi ho deciso di darmi al rap perché sono più bravo e perché è più basso è perché sono troppo basso cioè ero stanco di essere playmaker però forza Lakers se fossi vuol dire tipo Lakers forza Lakers forza Ryan Rimes qua Radio Bocconi Blackout ciao 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 ciao